Crescita doppia cifra per l'export della provincia di Sondrio, più 11,6% l'incremento rilevato nel 2021 rispetto al 2019. Se si prende in considerazione il 2020, anno della pandemia, le esportazioni sono cresciute del 18%. Balterina e Valchiavenna si inseriscono in un quadro regionale che ha fatto segnare nel 2021 un export complessivo del valore pari a 135,9 miliardi di euro. E' quanto emerge dal rapporto sul commercio estero da Lombardia nel quarto trimestre e il consuntivo 2021 pubblicato da Union Camera Lombardia. Nel quarto trimestre l'attività delle imprese manifatturiere a Lombarde si è mantenuta su buoni livelli, nonostante i problemi riscontrati sul lato delle forniture e dei prezzi di materie prime e energia. Una domanda estera ancora vivace, anche se con primi segnali di rallentamento, ha consentito all'export Lombardo di crescere ulteriormente più 10,2% rispetto al trimestre precedente.